Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E tanto usiamo tutti e due armi Thomas, quindi usiamo un'arma bianca e un'arma non bianca. C'è un blocco da me? Puttana! Puttana che pompata bro! Uno di vita, morto. C'è anche l'ultimo. Uno di vita, su uno di vita per favore per favore! Uno di vita. Non ci sono fatti, ma non c'è un po' di lavoro. Eeeh mi ha maxato. Vai bro! Vai bro! mica l'oxiderone io spero che ti cagli addosso e ti piscio in faccia io figlio di puttana merda merda signori non lo so perché ma io me la sento non lo so perché ma io me la sento signori tre win di fila a voi 30 minuti per bettare ma in realtà penso di avermi stato forse un colpo porca merda si odierà consigli per aver si giochi per ness non ne ho moltissimi ne avrò tipo 200 andiamo è stato un periodo in cui nel 2012 ne avevo più di 700 poi lo vendo di tutti ero convinto ciro che fossero 18 mila patate scusi e devo subito pulire la l'uomo è senso dei noodles con carote zucchine uovo pollo adesso buoni buonissimi si chiamano udon o yaki udon dipende dal suo tipo delle zuppe no 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 niente zuppa niente zuppa sono degli spaghettoni belli spessi a merda ho capito quali sono li prendono loro li assaggio si si li assaggio e che cioè io voglio immagazzinare più cibo possibile arrivo subito il mio gioco preferito super mario land 3 ricca su io sono vecchio raga io sono vecchio raga oddio ha mai giocati che è stato inscritto per esempio no 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 zaynox mamma mia ragazzi non vi sto dietro non vi sto dietro ragazzi niente va bene è andata cioè infatti ha avuto un rapporto durante l'efnc abbiamo capito cosa ha fatto no no ma non ma io tu fu un e non sappia ma che cazzo mì caro andata l'importante la grado ben 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 ti faccio giocermi il cazzo dai raga dai raga dai raga ma dio ma dio parca di spezza oddio ma che chironi prendilo vai dritto per dritto in centro se sopra un albero ok devi passare questo medaglione è uno di quei due alberi lì vicino la ferrovia nettuno questi qua sono troppo piccoli quelli più giù quelli più giù dove c'è la ferrovia c'è gente e allora ma su questo ma su questo ma su questo c'è un tipo sull'albero radio carma di nettuno ho capito quando ci è arrivato pensavo di vedere che c'erano due testa di cazzo che spuntavano dalle fronte della funcia di minchia del cazzo di sua madre puttana troia lurida bagascia di merda mi sono messo al cuore mi sono squadra squalificata chi? ah niente qua mi dice che Zane è stato squalificato che cazzo? ragazzo ne so andiamo skyd su pixie e mersa c'è un'altra kill su sky si io lo chiamo vade al frega un cazzo andiamo mersa c'è malibuca sempre insieme 23 giocatori porco giudo non siamo ancora a 10.700 raga porca puttana luciana narossi si buonasera non prende il caldo? il caldo cosa intende? eeeeeee il salmone sco- ooooh ooooh cosa è che? buongiorno xera tua mammaaaaaaaaaaaaaaa no la tua x era io voglio vedere una cosa raga vi chiedo scudo ma voglio vedere una roba non si può fare niente perché sono fossa di su ma che cazzo balli che quella puttana di tua madre quando t'ha partorito il genitore porco diaz del ginecologo gli ballava illusor figlio di puttana balla su sta cappella stronzo balla porco diaz balla balla otto anni c'hai balli porco diaz valuto al tuo ordine su amazon me lo dici come diamine cazzo posso valutare un fottuto prodotto se lo ha ricevuto ieri e non l'ho ancora installato madonna ma come no sì sì che cosa guarda guarda che pronto vedi mamma minchia nettono e si va me lo mangio prende figa si prova ad alzare la voce ne penso dei penni enormi che mi fanno capire quanto io sia un po sfortunato tutto l'oro e ho lasciato tutto l'oro e 3 big poi grazie a tutti